Sono molto onorato, tutte le mattine ringrazio Dio per averci la possibilità di essere nel calcio, fare un qualcosa che amo tantissimo, con una pensione tremenda e allo stesso tempo sono pagato, sono onorato per questo e non tutte le persone hanno questa possibilità. Dopo capisco, sono diversi tifosi che pensano a me come un ex giocatore della Juve, ma pensano anche come un ex giocatore della Juve che ha vinto e che l'ha battuta anche in finale e che dopo l'ha battuta anche con la Finale, anche in Champions. Per questo, più di quanto io vorrei che tra il piano, tutti questi tifosi si ricordano di me, di un buon lavoro che abbiamo fatto insieme e se possibile abbiamo fatto insieme un traguardo importante.